Saranno una ventina i punti nelle campagne ravennati in cui, a partire dalla prossima primavera, verranno posizionate telecamere, ma non solo, da parte dell'amministrazione per garantire la sicurezza. A spiegarlo il vice sindaco Eugenio Fusignani. Allora, questa è la terza azione che avevamo proposto nel mandato scorso, quando ci siamo insegnati. C'è la ristrutturazione tecnologica del territorio. Arriviamo nei tempi in cui eravamo prefissati. L'aumento delle dotazioni di videosorveglianza nel territorio, in parte raccogliendo le segnalazioni che sono venute dai consigli territoriali e in parte con valutazioni che sono state fatte dai competenti organi di polizia insieme alla polizia locale, andranno a completare una prima fase di infrastrutturazione appunto territoriale. Non sono solo occhi elettronici, si tratta anche di lettori targa, che tecnicamente si chiamano CR, e anche quelli andranno ovviamente ad aumentare i livelli di sicurezza territoriale, fermo restando che tutti abbiamo la consapevolezza che i fenomeni li possiamo contrastare, contenere, ma lo zero non si otterrà mai.